Una nuova casa per l'asilo nido di Chiavenna è ciò che verrà realizzato grazie al contributo ottenuto sulle risorse del PNRR. Il sindaco Luca della Bitta definisce il risultato una delle più importanti scommesse dell'amministrazione comunale, che molti consideravano di difficile realizzazione, dare una nuova casa ad un servizio molto apprezzato dalle famiglie e dai bambini che ne usufruiscono. Il percorso di progettazione definitiva ed esecutiva ha preso il via con il lavoro di un gruppo di tecnici che nelle prossime settimane restituiranno le prime ipotesi elaborate. Nel quadro delle valutazioni, prosegue il sindaco della Bitta, sarà data la giusta attenzione ai temi della sostenibilità e dell'efficienza del nuovo edificio, oltre alla funzionalità organizzativa degli spazi. Si prevede inoltre di approfondire la questione della viabilità dell'area per migliorarne la fruizione. Massimo è l'impegno dell'ufficio tecnico comunale, unitamente agli operatori del servizio di asilo nido, che stanno mettendo a disposizione la loro esperienza. Ci siamo impegnati, conclude il primo cittadino, vista la straordinaria importanza di questa iniziativa, ad assicurare la massima condivisione a questo percorso, anche con la minoranza consigliare, attraverso l'attività della commissione competente. Siamo molto contenti di questo risultato atteso da parecchio tempo e che consideriamo storico per il nostro territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di questo percorso intrapreso, commenta Elena Del Re, assessore alle politiche sociali di Chiavenna, e lo viviamo anche con una certa emozione, in quanto cambierà la vita quotidiana dei nostri bimbi, delle famiglie e degli operatori del nido. Ci tenevo molto a lasciare un segno concreto per gli anni a venire del nostro impegno. Siamo quindi adesso impegnati con ogni sforzo possibile a progettare al meglio la nuova struttura.